alcuni di voi cerchio k attraverso marco a cura di vb guida psichica di tanto in tanto noi evochiamo in voi lo sviluppo di certe facoltà sottili che vi congiungono al vostro passato in modo che anche se non potete ricordare consapevolmente possiate intuire coscientemente gli effetti che state vivendo alcuni di voi hanno queste facoltà ed esse sono come ogni altra cosa riflesso di quella realtà che tutto permea ed evolve il nostro augurio è che questa realtà vi riempia coscientemente e che voi non possiate mai sentirvene separati avulsi o distaccati perché essa vi appartiene le ricchezze si dissolvono il vostro corpo la vostra mente le vostre sensazioni ed emozioni tutto quello che ora vi fa sentire di esistere si dissolverà ma la realtà da cui non siete mai abbandonati quella vigge quella non si dissolve e appunto noi vi auguriamo che voi da questa realtà possiate attingere la forza di superare che non vuol dire accettare ma comprendere quello stato di coscienza che reclama il risolversi del vostro karma l'insegnamento